Buonasera, ben trovati a Primus Interpares, un orario insolito per via della Nazionale. Questa sera abbiamo molti temi da parlare e ovviamente parleremo con il sindaco di Padova, Massimo Bitonci. Buonasera, buonanotte Massimo Bitonci. Buonasera a tutti. Allora, un orario un po' insolito, dicevo perché la Nazionale ha vinto il girone, quindi saremo a vedere quello che farà con la Spagna. Però abbiamo temi importanti per quanto riguarda Padova, uno su tutti la Prandina. Ovviamente parleremo della Prandina, parleremo dei parcheggi che verranno tolti durante la sera, parleremo, cioè non verranno più parcheggiati su, parleremo del plebiscito, parliamo di tante belle cose. Però prima io vorrei iniziare due anni da sindaco. Prima di raccontarci il bilancio di questi due anni abbiamo preparato un servizio, andiamo a vederlo e poi lo commenteremo. Sono passati due anni da quando Massimo Bitonci è diventato sindaco di Padova, avendo ottenuto il 53% delle preferenze al balottaggio. Due anni in cui opere pubbliche importanti per la città, su cui da anni si dibatteva, hanno visto la propria realizzazione. Prima fra tutte la rotatoria della stanga, il cosiddetto fagiolo, che ha snellito il traffico nell'incrocio più nevralgico della città, o ancora la sistemazione di diversi impianti sportivi o dei padiglioni della fiera. Si è intervenuto su scuole ed edifici pubblici per metterle in sicurezza con interventi strutturali o di prevenzione incendi, o ancora sulla viabilità. Sempre in un'ottica di incremento della sicurezza, si sono realizzate rotatorie e piste ciclabili e sono state restituite ai cittadini aree verdi prima luogo di ritrovo di persone poco raccomandabili, come Parco Azzurri d'Italia o il nuovo parco in area Borgomagno. Altre opere pubbliche sono avviate in gara e altre sono in cantiere, ma da questo punto di vista i successi più importanti riguardano il centro congressi, per il quale sono iniziati i lavori all'interno del polo fieristico, e il cronoprogramma, con date finalmente certe sulla realizzazione del nuovo ospedale. Tassazione, sicurezza e commercio sono i settori su cui si è intervenuto con maggiore incisività e collezionando importanti risultati, tanto che Padova risulta essere sempre più attrattiva, sia per i turisti che per i cittadini stessi, che si riversano per strade e piazze. Merito dei numerosi eventi organizzati, ma anche dei regolamenti introdotti, primo fra tutti quello della patente a punti per i baristi. Dal punto di vista delle tasse, Padova è ora tra i comuni con la più bassa tassazione pro capite d'Italia, e questo anche secondo le ricerche della CGA di Mestre. Ma dati confortanti arrivano anche dalle forze dell'ordine, che indicano nell'ultimo anno un calo del 13% dei reati commessi in città, o ancora dal turismo. I visitatori, nei vari siti museali e monumentali, continuano ad aumentare, così come gli incassi degli ingressi a pagamento. Degno di nota è anche il fatto che in questi due anni è diventato più diretto il rapporto tra cittadini e amministratori, e questo grazie all'introduzione di un numero apposito WhatsApp per le segnalazioni, ma anche grazie ai periodici incontri al di fuori di Palazzo Moroni, tra sindaco e cittadini. Allora, prima di tutto complimenti Massimo, poi nel vedere questo servizio io faccio giornalista e uno mi dice mamma mia, sembra una favola, cioè una favola, due anni straordinari, due anni dove tutto il lavoro che hai svolto ti è stato riconosciuto in maniera molto piacevole dei cittadini, tenendo sempre presente che tu sei venuto a fare e amministrare una città dopo tanti anni dal centro-sinistra. Intanto sono 24 mesi direi molto intensi, dove abbiamo fatto, oltre ovviamente alle opere che si vedono e che sono state realizzate, c'è stata tutta un'attività di programmazione, perché ne parlavo stamattina con un gruppo di cittadini che sono venuti a salutarmi, è tutto un gruppo di commercianti per la questione delle Prandina, ma ne parleremo più tardi, e dicevo guardate che dobbiamo spiegare bene alla gente che da quando nasce un'idea su un'opera pubblica a quando dopo si realizza c'è questo processo che è l'idea, l'individuazione del progettista, che deve essere fatto con gara, quindi la gara non si fa solo per realizzare, ma anche per individuare il progettista, e quindi si fanno i tempi per bandire la gara, per individuare il progettista, la commissione che si insedia decide il progettista, ci sono sempre magari dei ricorsi, dopodiché il progettista comincia la progettazione, e allora progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, e poi bisogna fare la gara, la gara, la gara dei tempi, a seconda dell'importo la gara è di un tipo oppure un altro, il codice degli appalti ha peggiorato adesso il sistema delle gare, dopo la gara ovviamente c'è l'esecuzione dell'opera, e anche là di essere fortunato a trovare la ditta giusta, quindi pensare in 24 mesi, aver fatto già opere pubbliche, perché ricordo che alcune opere pubbliche sono già state fatte, di averne impostate talmente tante, che ne vedremo a realizzazione il prossimo anno, fra due anni e fra tre anni, è una soddisfazione molto importante, però non ci sono solo le opere pubbliche, come dicevamo prima, se partiamo dalla tassazione, anche l'abbiamo fatto una scelta di diminuire le tasse, il riscontro che è stato direi positivo, non lo diciamo noi, lo dicono i giornali, esperti del settore, l'ha detto solo le 24 ore, l'ha detto Ciglia di Mestre, che a Padova, che era la prima città d'Italia come tassazione due anni fa, solo le 24 ore, è diventata quella più bassa tassazione nel Veneto, quindi io direi taglio dell'IRPEF, taglio dell'IMU, taglio della Tasi e della Tari, taglio degli imposti di soggiorno, io penso che già questo è stata una cosa importante. Poi anche tutta l'attività che abbiamo fatto di organizzazione della macchina comunale, e quindi abbiamo creato i capi area che prima non c'erano, cioè i dirigenti, il sistema era di tipo orizzontale, i dirigenti erano tutti quanti sullo stesso livello, e il responsabile di un'area aveva funzioni meramente di carattere organizzativo, noi invece abbiamo creato un sistema di carattere piramidale, io credo molto in questo, e quindi il capo area è capo anche degli altri dirigenti del settore, quindi c'è un responsabile e chi ci ascolta sa benissimo che se c'è un responsabile che viene premiato ovviamente anche dal punto di vista stipendiale a seconda del raggiungimento degli obiettivi, le cose cambiano e sono cambiate molto in tanti settori. Il commercio io direi che sono stati due anni proprio eccezionali, perché chi si ricorda i mercatini, il Natale che abbiamo fatto, l'ultimo Natale è stato qualcosa veramente di stupendo, ma non lo dicevamo noi, ma soprattutto quelli che venivano da Padova, fuori Padova, per visitare Padova, molti mercatini, una ripresa del commercio cittadino, i mercatini organizzati in Prato della Valle, i mercatini organizzati anche nei quartieri, cioè non più solo centro storico, ma anche i vari attività organizzate nei vari quartieri, perché è importante la città, ma sono importanti anche i quartieri. Il turismo, abbiamo visto prima dati importanti sul turismo, settore su cui stiamo lavorando moltissimo, perché io credo che in un momento anche così difficile di crisi economica, di crisi immobiliare, di crisi finanziaria, di crisi anche industriale, dove c'è solamente il venduto che tira, gli ultimi dati dicono che se non ci fosse il Veneto in Italia, che è l'unica regione che ha un PIL positivo e ha questa capacità di guardare verso i paesi esti, l'esportazione, insomma la situazione sarebbe veramente tragica in Italia. Per un momento così difficile, uno dei settori che invece è trainante e positivo è quello del turismo, noi subiamo una concorrenza spietata da parte di Venezia e di qualche altra città importante, però Padova, devo dire che in questi due anni, ha riscontrato un notevole successo. Siamo la prima città d'arte italiana con incremento costante negli ultimi vent'anni. Negli ultimi due anni abbiamo avuto un incremento importante per quanto riguarda sia le persone che sono arrivate a Padova, sia l'incremento di chi ha soggiornato negli alberghi. Stiamo lavorando perché questa permanenza che si ferma un giorno, un giorno e mezzo a Padova, diventi una permanenza di più di qualche giorno, magari lavorando con le terme, magari lavorando con le altre città d'arte, perché ci sono altre cose meravigliose da vedere in provincia. Abbiamo avuto grandi mostre, a ottobre avremo la mostra scientifica più importante mai fatta a Padova che è quella dei dinosauri argentini, noi prevediamo 200-300 mila persone, al San Gaetano che non veniva più tanto utilizzato, che era un centro sottoutilizzato. Quindi stiamo lavorando in tantissimi settori. Le opere pubbliche, sono state citate prima, dai tetti della fiera, 4 milioni e mezzo di investimento, chi ha visto la fiera, nonostante la crisi che c'è nel settore feristico, abbiamo voluto investire anche lì. La viabilità dalla rotatoria della Stanga a tutte le viabilità collaterali, lo studio della viabilità generale che abbiamo iniziato, la progettazione della viabilità di Ponte Vigo d'Alzare sia a sud che a nord, quindi sia a sud che a nord, anche quella in prossimità della rotatoria Ex-Symp. Una cosa ti interrompo che io sono rimasto impressionato, è che tutti i giornali poi l'hanno riportato con molta enfasi, ma è uscita da questa trasmissione, è Piazzale Boschetti, il collegamento col portello. Piazzale Boschetti, sulla viabilità concludo anche col discorso del Bassanello, stiamo studiando il Bassanello e anche le altre problematiche di entrata e di uscita dalla città, perché purtroppo Padova ha un po' questo problema, la mattina e la sera, l'entrata e l'uscita nelle varie direttrici che sono da nord a sud della città, ma là c'è un investimento importante che è l'arco di Giano, quindi il completamento dell'arco di Giano a nord e a sud, come dicevo, soluzioni di viabilità per tutta quanta la parte della gronda a sud. Dopo ci sono opere che sono in procinto di essere realizzate, Piazzale Boschetti, attualmente utilizzato come parcheggio per la città, però noi vogliamo dotare la città di un parco cittadino, un parco importante per la città, ed ecco così, anche qui per far capire insomma l'individuazione del progettista, adesso il progettista sta progettando l'opera, diventerà un grande parco, con una passerella che collegherà il giardino dell'arena, con il collegamento col portello, con una specie di banchina molto lunga che diventeranno quasi i bagni di Padova, ecco quindi il porticciolo di Padova, insomma una grande vela nel progetto che copre e unisce i due corpi di fabbrica dei Palazzi Liberty, che purtroppo la superintendenza non ha dato l'autorizzazione per la demolizione, perché se fosse stato per me insomma avremmo demolito tutto e aperto completamente alla città, la pedonalizzazione di un pezzettino di Via Trieste, in modo che la viabilità passi per Via Valeri, passi attorno alla stazione e poi esca di nuovo per andare in Via Morgagni, quindi stiamo lavorando su tantissimi fronti, devo dire, le scuole, l'ospedale, il plebiscito, i colbacchini, i colbacchini abbiamo avuto l'ok da parte del CONI, anche là i tempi burocratici, perché sui piatti sportivi abbiamo avuto anche l'ok, anche oltre anche del CONI, abbiamo avuto l'ok settimana prossima, quindi finalmente parte la gara per il colbacchini, 1.800.000 euro, sarà lo stadio dell'Atletica Cittadina, con otto piste, ce ne sono sei adesso, otto piste, due tribune, gli spogliatori nuovi, insomma all'Arcella, l'abbiamo voluto mantenere all'Arcella, stai lavorando, io però sono sempre all'inacchio... Il decentramento della polizia locale, abbiamo aperto la guizza, adesso apriremo all'Arcella, un milione di euro in telecamere, anche là qualcuno ha detto, ah ma non l'abbiamo ancora vista, ma bisogna che gli spieghiamo, alle persone, quelli che magari criticano, no, che poi sono sempre di una parte politica ben precisa, loro sanno benissimo che non è che la gara la puoi fare da oggi a domani, cioè la gara è fatta, però tra la gara e l'installazione ci vuole un tempo tecnico, questa è la realtà. Ma al di là, apro una parentesi in mia persona, io non vedo l'ora davvero, mi affascina l'idea di piazzare Boschetti, perché sono stanco di passare davanti e vedere quei palazzoni messi in centro a Padova, messi così male, dunque mi auguro che lì la burocrazia sia rapida nel far sì che il sindaco riesca... È già finanziata, per cui è un'opera che va avanti. Ecco, riesca a sistemare rapidamente. Ovviamente due anni, due anni bisogna ricordare tutto, perché qui abbiamo detto, e sicuramente i cittadini lo riconosceranno, che stai cambiando e non poco Padova. Il tuo rapporto con l'opposizione, che è sempre di colpi bassi, colpi non bassi, ecco com'è, potrebbe avere un miglioramento dal tuo punto di vista se sì come, oppure è una situazione che dopo tanti anni di amministrazione di centro-sinistra arrivare a Bitoccia e centro-destra ha dato molto fastidio, quindi sarà una battaglia sempre lunga? Ma io capisco che aver governato tanti anni, perché c'è stata un po', c'è stata la parentesi giustina a destro, però devo dirlo senza voler colpire nessuno, però non è stato incisivo, non è stato un periodo storico incisivo per Padova, è stato un periodo di passaggio, dove però la città è tornata poi ancora più in maniera propenderante, propenderante nelle mani della sinistra, ecco, Padovana, però questa cosa che è successa, della mia vittoria, deve essere un po' sommatizzata, nel senso bisogna che capiscano che nell'amministrazione c'è maggioranza e c'è opposizione, e che l'opposizione può avere un ruolo, può avere un ruolo anche positivo, invece l'opposizione di questi due anni è stata un'opposizione molto dura, poco sui temi, direi, molto sul personale, ma soprattutto volta a fermare le cose, questo è un errore, io dico ai cittadini, cioè se tu hai idea di realizzare un nuovo ospedale, e sai benissimo che a Padova Ovest non c'era la proprietà dell'area, il progetto non andava avanti, che era 30 anni che se ne parlava, arriva il sindaco e dice facciamo Padova Ovest, mettiamo a disposizione i terreni che abbiamo, acquisiamo degli altri terreni e a agosto li metteremo a disposizione nella regione, cioè stai dietro all'amministrazione, perché devi fare denunce, querele, segnalazioni, procura, perché funziona tutto così, cioè se io vado a risolvere un problema di 10 anni del frontone dell'ex foro Boario di Piazza Rabin e un contenzioso che andava avanti da 10 anni, io lo dico ai cittadini perché sia chiaro, dove se tu andavi avanti con il contratto perdevi 600 mila euro all'anno di entrate di parcheggi, se non davi esecuzione pagavi un milione e mezzo di penale e quindi corte dei conti, e quindi bisognava transare questa cosa, e siccome io sono per trovare delle soluzioni e transare, abbiamo chiamato la società, abbiamo detto bisogna trovare una soluzione, noi non possiamo perdere tutte le entrate di parcheggi e non possiamo pagare la penale di un milione e mezzo perché ovviamente sarebbe un danno per la città e per l'amministrazione e per le casse del comune e quindi si è trovata una soluzione intermedia, si fa il parcheggio, ma non si fa il sotterraneo, viene ristrutturato il frontone, le entrate dei parcheggi vengono divise tra il comune e l'amministrazione, tra l'amministrazione e il privato, così anche le entrate degli affitti, e allora ecco, l'opposizione dice operazione poco trasparente, si poteva forse ottenere di più, ma perché non l'avete fatto voi? Cioè è rimasta ferma 10 anni questa cosa? 10 anni? Quindi il rapporto diciamo non è migliorabile dal tuo punto di vista? No, bisogna come quando succede devo dire un po' un luto all'interno di una famiglia, bisogna cercare di passare questo periodo e diventare positivi e dire magari facciamo un'opposizione a Bitonci dicendogli bravo quando fa le cose giuste e magari dicendo che non va bene effettivamente quando non va bene. Invece questa è un'opposizione di no su tutto. Io sento anche al loro interno una grandissima opposizione e una grandissima conflittualità interna su questi temi perché c'è chi dice no, su questa cosa magari dobbiamo dire a Bitonci va bene così, vai avanti così, su altre cose invece stai sbagliando, però non tutto tutto no, tutto sbagliato, tutto negativo quando poi hai i cittadini che quando anche ieri ho fatto una passeggiata o oggi ero fuori dal comune i cittadini ti fermano gli danno la mano si fanno la foto ti chiedono una cosa e l'altra quindi c'è un buon rapporto del sindaco con la città devono rendersi conto di questa Massio prima di concludere un'analisi di questi tuoi due anni invece dimmi una cosa che non rifaresti oppure fatti una domanda Massio Bitonci si fa una domanda Massio Bitonci su una cosa che non è andata bene in questi due anni a meno che non sarà tutto bene insomma ecco ma ci sono alcuni temi che forse che forse magari vanno analizzati un po' meglio ecco su cui però opereremo a brevissimo io parlo del tema dei nomadi ecco allora su questo tema abbiamo abbiamo capito e io l'ho fatto personalmente andando a visitare le diverse situazioni della città che c'erano alcune situazioni che potevano essere regolamentate va bene bambini che vanno a scuola famiglie lottizzazione lotti lotti con terreni di proprietà con già la luce elettrica con con l'abitabilità già data magari anche che vanno che abbiamo regolarizzato ci sono altre cose come quello di via Bassette per esempio dove l'abbiamo provato riprovato riprovato a tentare di trovare una soluzione con queste famiglie dove l'ha lo dico francamente a tutti una soluzione non c'è quindi troveremo una soluzione alternativa quel campo va sgomberato queste sono cose che devono essere ben questo è l'unico cruccio che ben analizzate no c'è nel senso che io avrei fatto lo sgombero dopo una settimana in realtà quando ci sono bambini piccoli quando ci sono situazioni di questo tipo non sempre è possibile farlo perché non sempre c'è la possibilità di trovare anche di essere accompagnati anche dalle altre forze dell'ordine concludiamo concludiamo l'argomento di questi due anni dai un voto a Massimo Bitonci di questi due anni da amministratore di Padova ma io penso che il voto e poi la motivazione allora io penso che come impegno al sindaco e alla giunta bisogna dare dieci come realizzazioni bisogna dare otto va bene otto otto come diciamo macchina comunale qua darei qualcosa meno perché ci siamo trovati una struttura abbastanza rigida e per cui qua non è stato facile rimettere in moto sei e mezzo diciotto facciamo il sette venticinque che dipeso non tanto dalla nostra azione ma sul fatto che il pubblico e qui gli errori anche devo dire di un governo che ha voluto fare qualcosa sul pubblico impiero ma non ha avuto il coraggio cioè bisogna avere coraggio bisogna avere coraggio di dire un sindaco quando viene eletto deve potersi portare i propri dirigenti siccome io sono stato criticato perché mi sono portato di dirigenti no va bene ma in realtà chi ci ascolta sa benissimo tu lavori su un'azienda se ti porti i tuoi dirigenti se ti porti le persone di cui hai fiducia non che non abbia fiducia però ovviamente i ritmi erano diversi erano magari persone che facevano riferimento a maggioranze diverse magari qualcuno di questi fa ancora riferimento a qualche altra maggioranza diciamo la verità noi assunzioni non abbiamo fatte neanche una però in passato le assunzioni venivano fatte e magari in maniera non sempre trasparente nella pubblica amministrazione non dico niente di strano ecco e tutti sanno quindi su c'è un meccanismo interno che non sempre lavora nella stessa direzione dell'amministrazione però noi abbiamo messo in moto tutta una serie di controlli e tutta una serie comunque di verifiche io per esempio sui lavori pubblici personalmente faccio una riunione ogni 15 giorni con tutti quanti i dirigenti e qui voglio vedere lo stato di avanzamento dei lavori le gare e tutto quello che succede in modo che riesco a capire se c'è una cosa che viene tenuta ferma ferma volutamente magari ferma oppure se c'è effettivamente un problema su un'opera pubblica chi ci ascolta sa benissimo che il privato funziona in maniera un po' diversa dell'amministrazione e un sindaco dovrebbe essere data la possibilità di scegliere sempre tutti i propri collaboratori tutti i propri collaboratori e un sindaco dovrebbe avere la possibilità di licenziare le persone che non lavorano dovrebbe essere data la possibilità ma il sindaco è un politico e per cui perché dovrebbe poter licenziare chi è stato assunto mediante un concorso sì ma allora non puoi dare i poteri al sindaco e dire che deve fare il manager del comune e poi non dargli i poteri per poter lavorare certo ma questo Presidente dovrebbe prendere il governo come l'ha preso per gli assentisti se vogliono che funzioni bene devono dare la facoltà i sindaci di prendere decisioni anche drastiche sul personale bene abbiamo sforato ma era giusto farlo i primi due anni di Massimo Bitonci come amministratore di Padova come sindaco di Padova la media 25 diviso 3 viene a 8 più va bene 8 più è un buon voto insomma non è ma io sono io devo dire sono contento del lavoro del sindaco degli assessori di tutti quanti perfetto quindi io penso che anche la gente stia apprezzando questo sacrificio e questo lavoro che facciamo ogni giorno nei prossimi 3 anni poi cambiamo davvero argomento da 8 più bisogna raggiungere il 10 quindi c'è spazio per migliorare c'è sempre spazio per migliorare bene ma se ora cambiamo tema argomento poi andremo a parlare della Prandina che è l'attualità ci sono state le amministrative 15 giorni fa domenica scorsi i balottaggi in tutta Italia ha stravinto in tutta Italia ha stravinto però il Movimento 5 Stelle è quello che ha avuto un successo davvero straordinario e nel Veneto ha avuto un successo straordinario anche la Lega tu sei uno dei responsabili della Lega del Veneto andiamo a vedere questo servizio poi lo commenteremo un risultato super positivo così il presidente del Veneto Luca Zai ha definito l'esito delle elezioni amministrative 2016 dal primo turno ai ballottaggi un esito per certi versi previsto con il carroccio che partiva forte dal risultato delle regionali 2015 in Veneto dove aveva raccolto quasi 800.000 consensi tra partito e lista Zai ma previsto o meno che fosse resta comunque una bella soddisfazione per Gian Antonio D'Arae segretario nazionale e per Massimo Bitonci presidente della Liga Veneta che hanno visto eletti già al primo turno una buona parte dei propri candidati in corsa negli 82 comuni veneti dove si andava al voto è avvenuto così al primo turno a Cittadella con Luca Piero Bon a Villorba con Marco Serena a Montebelluna con Marzio Favero successi un po' in tutte le province dal Padovano alla Marca Trevigiana dove il carroccio ha fatto cappotto oltre a Montebelluna con Favero e Marco Serena a Villorba al ballottaggio è arrivata poi la vittoria di Maria Scardellato nuova sindaca di Oderzo ma i nomi sono tanti altri a Tiglio Gastaldello a San Giovanni Lupatoto nel Veronese in provincia di Padova a Loredana Borghesana Montagnana e a Vigo D'Arzare Adolfo Zordana più tutti quelli che possono essere attribuiti alla coalizione di centrodestra Lega compresa quindi Roberta Gallana a Este Massimo Barbugliani ad Adria a Volpago del Montello con Paolo Guizzo e poi Alessandro Bizza Gordignano a Porto Buffolet Andrea Sebastiano Susano appoggiato dalla Lega Nord e da alcune liste civiche è stato eletto sindaco con l'87,80% dei voti un risultato insomma che lascia poco spazio a interpretazioni e che consacra pur con qualche impasse come avvenuto a Chioggia il modello leghista veneto come quello vincente e forse a questo punto anche Matteo Salvini dovrebbe farne tesoro visto i risultati non esaltanti ottenuti in Lombardia e sotto il Po Allora prima di commentare con Massimo Bitonci devo prendere anche i miei collaboratori perché abbiamo seguito con molta attenzione queste amministrative sia il primo turno dove abbiamo avuto i collegamenti e la diretta eravamo gli unici a fare la diretta sia nei ballottaggi dove abbiamo intervistato per primo i sindaci che hanno vinto il ballottaggio abbiamo visto il sindaco di Este e di Oderzo siamo stati i primi a intervistarlo quindi davvero era doveroso riconoscere che il lavoro del nostro emittente nei confronti di queste amministrative è un lavoro che stiamo facendo con molta attenzione anche nei confronti dei sindaci soprattutto anche visto che sul nostro territorio del sindaco di Padova Massimo Bitonci ma insomma la Lega ha preso 110 a l'Odi insomma nel Veneto un risultato un risultato ottimo come ha ricordato il nostro governatore Luca Zaia un risultato a tratti anche un po' in controtendenza rispetto al resto del territorio io l'ho detto anche l'altro giorno in un comunicato quando è stato attaccato Matteo Salvini sul risultato nazionale io continuo a ripetere che se la Lega ha un riscontro nazionale così importante lo dobbiamo a Matteo Salvini ecco quindi dare interpretazioni diverse del successo della Lega in questo ultimo anno io dico che è sbagliato ci sono zone e zone ci sono candidati e candidati a Cittadella Luca Piero Bon è un candidato che chi lo conosce chi sa come ha lavorato negli anni precedenti quando era il mio assessore e poi vice sindaco di Giuseppe Pan e come ha fatto la campagna elettorale in questi ultimi mesi a Cittadella si diceva davano quasi per scontato un risultato del genere ma non tanto per la continuità dell'operato ovviamente dell'amministrazione di cui io ho fatto parte anche in passato avendo fatto sindaco 10 anni vice sindaco 8 anni proprio là ma anche per il valore della persona cioè la gente vota la persona questa è la realtà e così anche a Este dove noi devo dire francamente perché ovviamente in politica c'è sempre il tentativo di interpretazioni diverse del giorno dopo di chi magari vuole dire una cosa ma ne ha fatto un'altra magari in campagna elettorale la Roberta Gallana un candidato bravissimo un imprenditore piace tutto subito la città devo dire io ho fatto un giro con lei la settimana scorsa per il mercato e fermavano me e lei insomma la gente sentivo il clima era un po' come quando qua a Padova giravo per i mercati gli ultimi 15 giorni prima del voto del ballotaggio stessa cosa fermavano il sindaco Gallana fermavano me si facevano le foto quindi quella atto me era frizzante che tu senti ecco molto positiva però anche là c'è chi ci ha creduto prima e chi ci crede adesso va bene perché noi della Lega Nord su questi candidati ci abbiamo creduto subito e li abbiamo anche diciamo così sponsorizzati altri invece si sono buttati dopo ecco vi dico sempre un po' comodo però posso dire Massimo che rispetto per esempio al PD scusami se ti interrompo rispetto al PD o ad altre forze politiche tranne il Movimento 5 Stelle voi nei vostri candidati i responsabili della Lega erano sempre presenti cioè da Zaia a Salvini a Massimo Bitonci hanno era un contributo importante a Cittadella ah io sono stato dappertutto dove mi hanno dove mi hanno chiesto dappertutto eravate a supporto per tutti anche del sindaco di Chioggia devo dire che mi dispiace perché il sindaco Casson che non è parente con ovviamente con l'ex magistrato Casson di Venezia è un sindaco che l'ha fatto bene però la la mancanza di chiarezza no cioè il fatto che il sindaco era appoggiato prima dal PD poi ha avuto problemi col PD che volevano fargli fare delle cose che lui non era d'accordo ecco e quindi la maggioranza si è spaccata e quindi dopo si è presentato con un'altra maggioranza la mancanza di chiarezza in politica è fondamentale cioè quelli che passano un po' da una parte dall'altra vengono puniti ovviamente dai cittadini la coerenza soprattutto è strano però Massimo ti dico adesso emotivamente il cittadino non è proprio stupido che un rappresentante del PD perché litiga esce e va via e va con la legge ma lui non era del PD era centrosinistra ogni modo e quindi dopo la sezione e il gruppo della Lega dell'area di Chioggia ha deciso di candidare questo perché l'ha visto come un candidato spendibile credibile e là si è innestato i 5 stelle che adesso in Veneto allora una cosa è quello che è successo a Roma e a Torino dove anche là a Torino io ho criticato molto il sindaco Fassino in questi anni come presidente dell'Anci ma anche perché dicevo se sei sindaco di una grande città come Torino non puoi stare tutta la settimana a Roma cioè è come se Massimo Bitonci io ero stato vicepresidente anche dell'Anci mi avevano chiesto di continuare con la vicepresidenza avessi passato tre giorni a settimana a Roma per fare il vicepresidente dell'Anci che poi durante la settimana c'è la conferenza di qua c'è la cosa di là va in giro per l'Italia cioè il sindaco deve stare nel suo comune ed è per quello che io non vado vado pochissimo in giro fuori dal mio comune lo faccio prettamente durante la campagna elettorale per sostenere qualche sindaco ma durante tutto l'anno io sto a Padova e non vado in giro neanche in televisione e mi telefonano tutte le settimane per fare dirette a Roma con le tv ovviamente nazionali io faccio a Padova in collegamento se vogliono va bene e quindi posso fare mezz'ora un'ora dopo ritornare il mio lavoro a disposizione dei cittadini padovani ma non vado una giornata a Roma e poi vieni qui da noi e vengo qua da voi ovviamente e se no vado non parto e vado una giornata o magari dormo fuori per andare in trasmissioni nazionali che magari potrebbero darti una certa visita non mi interessa perché i padovani devono sapere che il sindaco di Padova sta a Padova tutto il giorno a lavorare ed è il problema che ha perso Fassino cioè Fassino ha perso non perché i 5 stelle a Torino a Torino non è la situazione di Roma e di Torino non sono equiparabili perché a Roma ha vinto il 5 stelle è stato un voto di protesta un grandissimo voto di protesta dicendo non crediamo più a questo non crediamo più a destra non crediamo più a sinistra non crediamo più a nessuno votiamo un grillino va bene ma a Torino è stato diverso hanno votato l'Appendino del Movimento 5 Stelle perché Fassino si vede che in questi anni non ha fatto il sindaco di Torino perché è un sindaco al secondo turno ma poveri pregi voti io lo dico perché ho fatto già il sindaco poveri pregi voti anche della Lega della centrodestra ma certamente però direttore io che ho fatto anche il sindaco anche a Cittadella e sono stato rieletto al secondo turno con il 57,5% quando nel 2002 al primo turno ho vinto con 200 voti di differenza cosa vuol dire questo? vuol dire che se uno lavora bene per 5 anni i cittadini ti rieleggono questa è la realtà assolutamente cioè se tu un sindaco non viene rieletto o ha avuto qualche problema perché ha preso delle decisioni che doveva prendere va bene anche a favore dei cittadini però erano decisioni che non 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 gli hanno portato consenso va bene perché ci sono anche cose che devono fare i sindaci che possono non portare il consenso se no uno bisogna si chieda perché non viene rieletto il risultato del Veneto è un risultato straordinario perché a Treviso hanno vinto tutti i comuni tutti a Padova abbiamo guadagnato dei comuni come Vigo d'Arzere Vigo d'Arzere e ai comuni della sinistra c'è poco da fare ha vinto Adolfo Zordà della Lega Nord sostenuto finalmente dalle civiche di centrodestra e adesso è un vantaggio anche per Massimo Vitonci avere dei sindaci della stessa linea politica perché io adesso con Adolfo Zordà ci mettiamo a tavolino i ragionamenti sulla viabilità sulla pulizia municipale a livello più facilmente e facciamo più facilmente ma l'ultima poi andiamo in pubblicità un commento anche sulla sconfitta del PD a livello nazionale il tuo parere ma c'è molto di politico secondo me c'è molto di politico c'è una un segnale che si vuole dare al governo al governo Renzi cioè che è finito il tempo delle chiacchiere e quindi o si fa qualcosa di concreto oppure la gente non è più stupida cioè non è stupida e quindi non ha intenzione di dare nuovamente fiducia io vedo a questo governo il voto amministrativo è stato una bocciatura del governo e questo è chiaro e l'analisi che non fa Massimo Bitonci sindaco di Padova è l'analisi che fanno i grandi quotidiani internazionali europei dal Times cioè i grandi giornali hanno aperto dicendo la sconfitta del governo Renzi e poi una grandissima opposizione interna cioè questo è un partito e così è anche a Padova che ha delle fibrillazioni interne correntizie molto pesanti abbiamo visto in questi giorni che attacchi anche al segretario che ci sono quindi è una situazione estremamente instabile io penso che il referendum di ottobre sarà determinante perché ci sarà una buona parte del paese che andrà a votare contro questo governo che è un governo non eletto che è un governo che ha fatto un italicum che è dove i capi partito indicano ancora i capolista perché chi ci ascolta deve sapere che con questo nuovo sistema elettorale che hanno inventato i capi di partito indicheranno tutti i capolista senza preferenze e quindi sapete che magari passa solo il primo vuol dire decidere un'altra volta il Parlamento su questo tema molte domande abbiamo la pubblicità poi abbiamo anche tanti altri temi scontanti però l'ultima te la faccio e prego di essere breve che ne hai risposta Massimo allora l'ultima considerazione è che c'è stato molto sentismo la domanda è perché la politica non inizia a migliorare e farsi amare di più dalla gente se tra queste noi abbiamo fatto un servizio per l'interi giornale se magari cambiare il giorno per andare a votare potrebbe essere utile per poterlo fare e sei giusto dal tuo punto di vista che faccio un esempio uno su tutti che Napoli dico Napoli ma qualsiasi altra città Milano compresa vanno a votare il 35% degli abitanti di questo 35% dei magistri vince con i 60% vuol dire che il 20% ha votato il sindaco l'80% non l'ha votato trovi tutto corretto questo va bene che è giusto il problema che dice chi va ha sempre ragione però un sindaco su un milione di abitanti ha votato a 200 mila ha fatto un esempio c'è un trend un trend chiarissimo ormai negli anni negativo cioè ogni anno l'assenteismo aumenta c'è poco da fare questo è un trend chiaro sappiamo quasi già quale sarà il prossimo perché è una ma cambierà mai quella scala di sempre incalare la sala secondo me cambia in questo modo uno non puoi non far votare lunedì mattina perché perché se tu hai un weekend come quello scorso dove c'era il ponte va bene cioè tu non puoi non far fare in modo c'è gente che è andata giustamente chi ha potuto è andata via qualche giorno c'è poco c'è poco da fare ma tu non puoi non far votare il lunedì mattina si recuperava sempre un 4-5% e se c'è un problema di questo tipo non puoi non portare la gente a votare il lunedì mattina questo è uno e l'altro e poi le elezioni amministrative e qui c'è un dato da comune a comune quando il sindaco e l'amministrazione va bene il dato il riscontro è positivo se invece le cose non vanno bene vediamo che il dato diventa negativo quindi è un voto anche alle amministrative è un voto anche nei confronti dell'amministrazione uscente poi nella politica nazionale c'è una certa disaffezione però il problema è che i politici sono molto lontani sono molto lontani dalla gente tanto che i sindaci in effetti non possiamo annoverarli nella categoria dei politici ma degli amministratori cioè che è una categoria completamente diversa la politica vediamo anche 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 a anche a Padova anche in Veneto chi ha chi ha ruoli o di governo o ha ruoli di un certo tipo ma nel territorio non li vediamo mai se parlo anche chi è in maggioranza di questo governo che potrebbe ogni tanto andare da Bitonci a dire senti Bitonci magari hai bisogno di qualcosa a Padova cioè non c'è nessuno che pensano a fare gli esposti certo cioè l'idea di un certo signor Naccarato è quella che invece di chiedere se c'è qualcosa a fare per Padova è invece siccome lui è l'anticorruzione denunciare qualsiasi cosa che si fa a Padova in maniera preconcetta grazie dell'aiuto cioè questo è Padovani ricordatevi questi cognomi ringraziateli quando li trovate per strada perché questo è l'aiuto che fanno sono eletti sono parlamentari prendono i loro 15-20 mila euro al mese però andare dal sindaco Bitonci va bene che si carica sulle spalle i problemi di una città a dirgli caro sindaco hai bisogno di qualcosa no ti fanno le denunce fermo abbiamo sforrato la pubblicità perché anche piacevo ascoltarti Massimo di 15 minuti la regia mi sta uccidendo l'orecchio buona pubblicità un attimo di pubblicità poi rientro parleremo della Prandina e andremo a vedere come mai il sindaco Bitonci è riuscito finalmente a convincere il prefetto in presa di Padova ne parleremo subito dopo la pubblicità tra poco grazie a tutti